Buon pomeriggio a tutti e allora come detto da Nicola diversi di voi hanno già assistito alle scorse puntate di questo salotto digitale che altro non sono delle puntate diciamo dei momenti in cui affrontiamo una serie di argomenti e tematiche che interessano chi opera nel mondo dell'office automation nel settore IT. Ci tengo a ripetere un paio di concetti senza rubare troppo tempo al service management che ci illustrerà Fabio a breve e riguarda praticamente i numeri della nostra azienda. Oggi siamo arrivati ad avere circa 13 milioni di fatturato, quasi 2000 clienti attivi in tutta Italia, 3700 se consideriamo l'intero gruppo. Uno di questi clienti l'abbiamo incontrato nel primo incontro del salotto digitale di Infomind, era la Giustacchini Printing nella persona appunto di Davide Danese, l'amministratore delegato. Come lui ce ne sono tanti altri in tutta Italia che potete scorgere sul nostro sito, l'SCM per esempio ATF, NetSolution, Tnet, Amon Office eccetera. Siamo un'organizzazione che è partita tanti anni fa dall'Alto Adige, da Bressanone e poi ci siamo mano a mano allargati in altre sedi sul territorio, abbiamo raggiunto Verona, Bolzano, Trento, Venezia, oggi contiamo sei sedi sul territorio e una sede anche in Germania. Naturalmente questa espansione ci permette di essere più vicini ai nostri clienti fornendogli naturalmente un servizio migliore. Arriviamo alla domanda Radix, cos'è? Radix non è solo un RP, bensì è un ambiente, un ambiente che raccoglie strumenti completamente integrati, è una soluzione pensata per un unico scopo, perché deve unificare, deve integrare e connettere tutti i processi aziendali sotto un unico cappello. È una soluzione che vi permette di raccogliere tutti i dati provenienti dalla vostra attività, automatizzando o semplificando i processi aziendali quotidiani. Oggi Fabio ci mostrerà la verticalità che abbiamo creato per la gestione del service e soprattutto per i tecnici in mobilità, però naturalmente Radix si cala su tutta l'azienda e può gestire appunto tutta l'interezza dei vostri processi. Dalla gestione degli ordini clienti fornitori, preventivi, gli ordini di acquisto, con tutta una serie di automazioni che possono agevolare il vostro il vostro lavoro. Un'altra particolarità sono la gestione dei contratti noleggi. Radix gestisce oltre 180 tipologie di contratto, noleggio semplice, noleggio con la finanziaria, il pool di contratti, i contratti cumulativi e via discorrendo. La pianificazione, il service management, che è una procedura certificata ITIL, pianificazione interventi di ticketing. Anche qua possiamo attraverso il push di informazione direttamente sul tablet dei tecnici. Uno smart veloce, soprattutto integrato e online. Naturalmente non diamo per scontata anche la contabilità. È scontata, ma ogni volta non è mai banale. Soprattutto è integrata con i contratti e le assistenze. Pensate solo quanto tempo spendete voi oggi a correre dietro a dati banali che dovrebbero essere automaticamente disponibili. L'intervento, lo fatturo, quanto, quando lo fatturo, quante copie ha fatto questa macchina, quanto tornerà il cliente e pensate poi a quanti errori si possono commettere in una gestione di questo tipo, se non opportunamente automatizzata. Un'altra procedura che abbiamo appunto affiancato, integrato in Radix, è tutta la parte della business intelligence. Sì, fondamentale è il dato oggi, però la cosa più importante, secondo me, è quello di capirlo, interpretarlo. Quindi l'ABI trasforma il dato in conoscenza, vi permette di prendere decisioni consapevoli alla svelta. Radix è stato integrato con la Power BI della Microsoft. Gestione del magazzino. Gestione del magazzino, tutto quello che ne consegue, dal picking attraverso dispositivi palmari basati su applicazioni Android, per il carico, per la lettura del codice a barre, del QR code, eccetera, eccetera. L'easy shop, per esempio. Easy shop, i vostri clienti, possono ordinare direttamente da una piattaforma appunto web, quelli che possono essere consumabili, possono essere accessori. Sempre tramite piattaforma web abbiamo anche il portale di service management. Il portale service management consente ai vostri clienti di aprire delle chiamate direttamente a voi, può gestirsi tranquillamente i propri ticket, visualizzare lo stato, scaricare della documentazione, le fatture, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare, soprattutto per le aziende che magari hanno al proprio interno visione che si occupa anche di informatica, di una gestione progetti, progetti avanzati, e vi consente appunto di utilizzare una VBS per i vari step del progetto, la consultivazione e quelli che sono i costi, diciamo, normalmente di un progetto. Quindi Radix, come potete immaginare, è una soluzione RP formata da indicativamente 86 moduli diversi che ci permettono di coprire tutte le aree della vostra organizzazione. Diciamo che ci consentono di cucirvi il sistema su misura, è un abito, lo definiamo un abito gestionale, calato perfettamente sulla vostra realtà. Se un modulo non vi serve, è facile non acquistarlo. E se in futuro invece dovesse nascere questa esigenza, sarà altrettanto facile inserirlo. Radix è stato, lo stiamo commercializzando attualmente con due versioni preconfigurate, una versione che noi definiamo entry e una versione invece best practice per le aziende che hanno un dimensionamento un pochino diverso. Naturalmente con Radix siete sicuri di poter gestire in un futuro un nuovo ramo di azienda che vorrete creare per rispondere ai tempi che cambiano, e questo grazie appunto alla sua struttura modulare ed integrata. Non vorrei dilungarmi ulteriormente sulle caratteristiche del prodotto, io lascerei la parola a Fabio che è il nostro Senior Project Manager il quale ci mostrerà appunto la procedura di service management del tecnico in mobilità nello specifico di Office Automation e IT. Grazie d'attenzione, a te Fabio la parola. Eccoci qui, buon pomeriggio anche da parte mia. Ora vedremo appunto la possibilità con Radix di gestire gli interventi in mobilità, gli interventi dei tecnici in mobilità presso i vostri clienti. Noi abbiamo a disposizione due applicazioni. La prima è questa che vedete, che vi farò vedere maggiormente in questo momento, oggi pomeriggio, che è il mobile ticketing. Questa è una piattaforma completamente web e funziona, è disegnata per dispositivi tablet e vi permette appunto di gestire completamente la parte di assistenza dei vostri tecnici. A questa abbiamo l'affiancamento anche di un'app che funziona solo su tablet iOS. La differenza tra le due, diciamo che l'unica grossa differenza è che l'app mobile funziona, ha alcune funzioni che vanno bene anche quando si è offline, mentre questa che stiamo vedendo adesso funziona solamente quando si è connessi alla rete. Bene, adesso partiamo. Quindi questa è la home page dove il vostro tecnico deve inserire l'utente e la password. Premendo su login, la prima schermata che appare è l'elenco degli interventi che il tecnico deve fare. Adesso mi immedesimo appunto come fossi un tecnico. Quindi apro il mio tablet, vedo questo elenco, ho tre attività da fare e vedo subito una cosa molto importante. Innanzitutto, qui sulla sinistra vedete che c'è un punto esclamativo. Questo sta ad indicare che questa attività è un'attività a priorità alta, mentre le altre non lo sono perché qui sulla sinistra non c'è rappresentato nulla. Un'altra grossa differenza tra le varie righe che vediamo qui è l'ultima, la terza, qui sotto, dove rispetto alle altre vediamo che c'è una data e un orario. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa attività è stata, oltre che creata ed assegnata a me come tecnico, è stata anche pianificata, pianificata sia come giorno ma anche come orario. Quindi cosa abbiamo qui in sostanza? Abbiamo l'elenco delle attività che devo fare io, ordinate per data di inserimento ed eventualmente per data di pianificazione. Già qui a prima vista ho una serie di informazioni. Per ogni attività vedo che c'è la ragione sociale del cliente, l'eventuale destinazione nella quale devo andare per fare questa attività, compreso un indirizzo, l'ubicazione, l'eventuale ubicazione della macchina. In questo caso sto facendo vedere, diciamo, delle attività che sono relative al settore printing, la prima e la terza. Quella centrale è un esempio di un'attività che è relativa al settore IT, ma con questo sistema noi riusciamo a gestire praticamente qualsiasi tipologia, diciamo, di azienda, sempre nel settore del service, tipo la manutenzione dei carrelli, elevatori, piuttosto che anche aziende che danno servizi di estintori e quant'altro. Dicevo, appunto, qui vedo già una serie di informazioni. Entro adesso in questa prima attività. Ci clicco sopra e all'interno del ticket trovo, trovo, oltre che al numero, alla data e al tipo di fatturazione. Il tipo di fatturazione che vedete qui vuol dire che è a contratto. Adesso vi faccio un breve cenno. Cosa significa? In Radix vengono messe delle regole, viene opportunamente configurato il sistema in modo tale che anche chi apre i ticket non si deve preoccupare di capire se un intervento è a pagamento, piuttosto che a contratto o quant'altro. No, chi inserisce il ticket deve solamente inserire le informazioni base che servono per far capire al tecnico l'intervento che deve fare. Tutto il resto è una procedura guidata. Quindi, una volta inserito il ticket su Radix, qui abbiamo tutte le informazioni che mi occorrono appunto come tecnico per fare il mio intervento. Quindi, cosa vedo? Vedo i dati del cliente. Se clicco sopra questa iconcina qui, mi si aprono proprio tutti i dettagli. Quindi, ho appunto la ragione sociale, l'indirizzo, gli eventuali contatti telefonici, email e quant'altro. Poi, qui sotto, trovo i contatti del cliente. Posso entrare all'interno del contatto per dare la possibilità appunto ad un tecnico di modificare l'anagrafica. Faccio l'esempio. Devo fare la manutenzione a questa macchina che trovo qui. Eccola qui. Arrivo dal cliente. Io ho sempre il mio riferimento che è questo pietro modulo. Non c'è più. Non c'è più perché ha cambiato lavoro, è andato in pensione o quant'altro. Devo avere la possibilità, io come tecnico, di poter già in quel momento sistemare l'anagrafica. Attenzione che questo è un parametro che si può decidere insieme se si vuole dare la possibilità ad un tecnico di modificare o meno queste informazioni. Però, diciamo che è molto utile perché appunto arrivo e dico no, non è più questo il contatto mio di riferimento. Ecco che dall'interno dell'anagrafica del cliente io ho la possibilità di creare un nuovo contatto. Premendo sul tasto qui in alto a sinistra, inserisco i miei vari dati, salvo e il contatto poi me lo ritrovo tra quelli presenti appunto del cliente. La stessa cosa vale per le destinazioni, quindi un vostro cliente che ha più sedi sparse sul territorio, anche in questo caso c'è la possibilità di dare appunto la possibilità al tecnico di modificare queste informazioni relative alla destinazione. Premendo in questo caso qui in alto a destra dove c'è nuova destinazione. Qui sotto dove vedete mappa viene fuori, io adesso non riesco a farvela visualizzare perché sono dal mio pc virtuale, dopo vi farò vedere dal tablet, viene fuori la mappa di Google con l'indicazione di dove si trova appunto il cliente e con la possibilità anche di, cliccandoci sopra, di far partire la navigazione di Google Maps. Torno un passo indietro. Quindi dicevo, qui trovo i dati del cliente, qui trovo i dati del contatto che è stato assegnato al ticket e ho sempre comunque la possibilità di modificarlo premendo sulla penna qui sopra, trovo l'elenco dei contatti e posso appunto cambiarlo. Eccolo qui. E poi appunto la destinazione. Se clicco appunto sull'icona mi viene fuori mi viene fuori appunto il dettaglio della destinazione stessa. Bene. Altra cosa molto importante, qui sotto adesso vedo la macchina sulla quale devo fare assistenza. trovo il numero di serie interno di Radix quindi la matricola interna di Radix con la matricola del produttore qui sotto e il modello della macchina oltre che ovviamente alla descrizione della macchina. Se è stata messa trovo anche l'ubicazione quindi dove è stata posizionata la macchina all'interno dello stabile del cliente quindi in questo caso ufficio commerciali terzo piano quindi so già io dove devo andare. Quando mi presento ovviamente al centralino all'entrata del cliente gli dico guardi sono il tecnico della stampante devo andare da Roberto Cavazzoni la stampante è ubicata nell'ufficio commerciale al terzo piano. Poi un'altra informazione importante per un tecnico è questo pallino qui. Questo pallino mi sta ad indicare se la macchina è monitorata e se sta ricevendo letture o meno. Noi con Radix siamo interfacciati a svariati sistemi di print as monitoring uno fra tanti è MPS FM Audit e quant'altro. Con questo simbolino riusciamo a far capire appunto al tecnico che c'è un monitoraggio attivo però essendo rosso vuol dire che non sta ricevendo più letture negli ultimi X giorni. questo è un parametro che possiamo decidere insieme. Se il pallino fosse verde invece significa che la lettura è attiva e ho letture recenti quindi negli ultimi appunto X giorni. In ultima questo pallino se fosse grigio vuol dire che la macchina non è monitorata. Qui appunto trovo i dati di base del numero di serie quindi della matricola ma se ci clicco sopra entro nel dettaglio appunto del numero di serie e qui trovo molte più informazioni. Oltre a quelle che vi ho già detto un attimo fa che vedo appunto anche nella schermata precedente posso vedere qui la data di scarico quindi quando la macchina è stata consegnata al cliente la prima volta se è ancora in garanzia perché mi viene riportata la data di fine garanzia. Qui vedo esplicitamente se il monitoraggio è attivo oppure no. Ovviamente il contatto perché io potrei avere anche un contatto specifico per una macchina e poi qui sotto anche qui un'altra informazione molto importante è il dato relativo all'eventuale contratto legato a questa macchina. In questo caso vedo che c'è un contratto che è partito il 27 di ottobre del 2015 è ancora in corso e questa barra colorata mi dà lo stato di avanzamento del contratto. Vedete qui la data di fine contratto è il 26 10 2021 quindi a colpo d'occhio so se il contratto sta scadendo o meno. Questo mi può essere utile appunto come tecnico perché se ad esempio sto facendo un intervento che prevede che io debba sostituire un pezzo costoso della macchina vedo che il contratto sta finendo magari scelgo di non cambiare il pezzo di ricambio perché è appunto costoso e la macchina tra un po' la devo ritirare e di conseguenza decido di intervenire in un altro modo sistemando appunto in altro modo la macchina in modo tale che duri quei pochi mesi che mi mancano alla fine del contratto e poi si possa cambiare tranquillamente. Anche qui se entro all'interno del contratto vedo poche altre informazioni la maggior parte sono quelle che abbiamo viste qua fuori quindi vedo proprio nello specifico la data di inizio fine validità e la tipologia di contratto quindi in questo caso il full diretto come diceva Roberto gestiamo veramente tantissime combinazioni di contratto poi proseguendo cosa vedo qui sotto vedo lo stato del contatore quindi vedo quando è stata fatta un'ultima lettura in base anche alla tipologia di macchina in questo caso vedo che c'è un contatore bianco e nero l'ultima lettura è stata fatta a maggio di quest'anno per un totale di 195.000 copie e il colore di 24.000 copie poi sempre all'interno del numero di serie ho una serie di pulsanti che vediamo qui sotto che mi possono essere utili perché allora partiamo dal primo manutenzione in Radix ho la possibilità di pianificare delle manutenzioni quelle ricorrenti ad esempio entro all'interno di questa vedete qui c'è una pulizia annuale che io ho pianificato in scadenza il 2 di dicembre di quest'anno questo mi è utile perché perché se anche in questo caso sono a ridosso della pulizia annuale la macchina si è si è incepata la carta io sono lì vedo che tra una settimana mi scatta mi scade la pulizia annuale beh a questo punto mi risparmio l'intervento successivo faccio anche la pulizia prevista annualmente e quindi risparmio un'assistenza d'accordo poi cos'altro vedo qui vedo anche gli accessori che sono stati montati sulla macchina tutti i ticket quindi lo storico dei ticket fatti su questa macchina con possibilità di entrare all'interno di questi ticket vedere chi l'ha fatto e cosa è stato fatto e se sono stati anche cambiati dei pezzi di ricambio ok poi posso entrare anche in questa mappa di dettaglio articolo nel dettaglio articolo io posso andare a mettere tutta una serie di documentazione che può essere molto utile al tecnico diciamo che sono un tecnico alle prime armi non mi ricordo come devo cambiare o sostituire una parte di ricambio entro qui senza dover ad esempio disturbare un altro mio collega prendere in mano il telefono che magari disturbo anche i dipendenti del mio cliente sono completamente autonomo perché è sufficiente che io se ovviamente valorizzo bene le cose all'interno dell'IRP Radix ho tutte le informazioni che mi possono servire quindi cliccando ad esempio qui posso scaricarmi il manuale della stampante e posso seguire le indicazioni che ci sono qui ma ho anche la possibilità ad esempio di mettere un link ad un ad un sito esterno che mi dà la possibilità ad esempio di vedere questo è un link ad un video youtube che mi spiega il funzionamento della macchina e come sostituire eventuali parti di ricambio adesso eccolo qui bene qui posso in questo infobox mettere tutta la documentazione che mi serve torno indietro e torno indietro benissimo eravamo qui siamo entrati nel dettaglio del numero di serie qui sotto poi proseguendo cosa vedo vedo una descrizione l'oggetto in sostanza dell'attività quindi stampa con strisce e qui vedo l'attività che devo fare questo perché perché in radix a livello di struttura cosa ho? ho la possibilità di inserire un ticket con una o più attività questo perché perché se ad esempio io sono dal cliente devo fare l'intervento mi accorgo poi che ho bisogno di un pezzo di ricambio che non ho attualmente sul mio furgone a quel punto cosa faccio? sistemo la stampante per quello che riesco chiudo l'attività in essere e ne riapro una direttamente dall'interno qui del portale per una visita successiva quando quindi avrò il pezzo di ricambio a disposizione entro adesso all'interno dell'attività qui appunto ho il dettaglio di questa del lavoro che devo svolgere quindi qui escono delle strisce vedete nella nota cliente escono delle strisce nere nella stampa bene io faccio tutto il mio lavoro che devo fare mi accorgo che devo cambiare dei pezzi di ricambio questo lo posso indicare direttamente qui premendo vedete qui sotto dove c'è nuovo pezzo di ricambio e qui ho la possibilità di visualizzare tutti i pezzi di ricambio e non solo i pezzi di ricambio ma altro materiale anche consumabili o quant'altro che ho nel mio car kit quindi nel mio furgone ad esempio se premo qui solo su pezzi di ricambio verranno caricati i soli appunto pezzi di ricambio che ho sul mio mezzo e questi sono gli unici due pezzi di ricambio che ho a disposizione se premo qui sulla i ho il dettaglio anche dell'articolo quindi anche in questo caso potrei andare a indicare e caricare una foto del pezzo di ricambio o anche un manuale che mi spiega come andare a sostituire quel pezzo di ricambio se premo adesso su totale deposito qui ottengo l'elenco di tutto il materiale che ho sul mio furgone ad esempio premo di nuovo qui in questo caso l'immagine è stata caricata e qui mi rendo conto appunto del pezzo di cui ho bisogno questo può essere sempre utile anche qui quando magari c'è un tecnico che è alle prime armi bene dicevo qui c'è la scelta dei pezzi di ricambio poi finisco il mio intervento devo segnare i tempi a questo punto i tempi ho due modi per segnarli o quando arrivo dal cliente premo su start tempo apri il mio tablet premo su start tempo oppure a manutenzione eseguita quindi a consuntivo cosa faccio appunto entro nell'attività come sto facendo adesso premo qui sul pulsante tempi e qui ho la possibilità di andare ad inserire i tempi mettendo cosa mettendo la data in questo caso è un esempio che è già stato preconfigurato precaricato c'è la data l'orario di inizio e di fine di intervento quindi il totale delle ore fatte ma poi posso se ad esempio si tratta che ne so di una nuova installazione e con me viene un collega perché ho bisogno appunto di spostare la macchina che è pesante qui io ho la possibilità sulla stessa attività che è stata assegnata a me di inserire il tempo anche per il collega quindi è sufficiente andare a premere sul più qui in alto per inserire appunto la i tempi dell'altro tecnico del mio collega qui nella tendina vado a selezionare il tecnico che mi interessa vado a mettere l'orario dopodiché una volta fatto questo salvo e i tempi sono stati caricati torno indietro ho fatto tutto quanto vado eventualmente ad arricchire la nota del cliente che è quella che verrà fuori in un rapportino se si decide che a fine intervento si debba inviare il rapportino al cliente ok oppure posso anche mettermi delle descrizioni tecniche che sono ad uso esclusivo interno che potrebbe servire ad esempio per un tecnico oppure quando devo andare quando vado a vedere le attività storiche riesco a capire effettivamente cosa era stato fatto dopo di che una volta fatto questo posso procedere con la chiusura dell'attività come faccio qui in basso a destra premo su chiusura mi si apre questa tendina dove posso selezionare il tipo di chiusura passatemi il termine cosa voglio dire beh allora con chiusura vuol dire che io posso chiudere questa attività che mi andrà direttamente in stato chiuso e quindi sarà se lo prevede direttamente fatturabile se appunto è previsto dal contratto o quant'altro chiusura con verifica cosa vuol dire vuol dire che l'attività assumerà uno stato tendenzialmente di controllo questo perché perché chi poi c'è in ufficio e che controlla le attività dei tecnici ha la possibilità di avere due elenchi separati appunto uno con le attività chiuse senza controllo un'altra vista con le attività da controllare perché anch'io ad esempio che sono il tecnico non sono sicuro che questa attività sia contratto sia pagamento decido che debba essere qualcuno il mio responsabile in ufficio a decidere questa cosa allora posso fare chiusura con verifica chiusura con verifica appunto per il tecnico è indifferente cambia solo lato Radix che assumerà uno stato questo stato particolare chiusura con apertura nuova attività beh l'esempio che facevo prima arrivo sto facendo la manutenzione mi accorgo che ho bisogno di un pezzo di ricambio ma non ce l'ho disponibile faccio chiusura con apertura nuova attività cosa succede succede che in automatico il sistema mi chiude l'attività in corso e me ne apre un'altra solo rapportino di lavoro questo vuol dire che al cliente mando solamente il rapportino di lavoro questo è l'esempio classico in cui l'intervento si protrae più del previsto il cliente deve chiudere l'azienda io mando solo il rapportino perché gli dico guarda che per ora ho fatto questo torno il giorno successivo in questo caso ho la possibilità poi comunque nei tempi di andare ad indicare le due giornate con gli orari distinti a nulla beh torno indietro ovviamente scegliamo di fare chiusura con apertura nuova attività che è quella più completa in questo caso qui posso lasciare una nota per la nuova attività che mi può essere utile appunto nella nota successiva nell'attività successiva metto una nota a caso salvo la schermata successiva mi dà un riepilogo di ciò che è stato fatto quindi vedo dove è stato fatto l'intervento quindi su quale macchina la nota del cliente come vi dicevo prima gli orari orari del collaboratore e qui sotto gli eventuali pezzi di ricambio poi a questo punto ho due scelte posso chiudere l'attività facendo firmare su tablet al cliente oppure senza la firma procedo con la firma ok con firma qui mi si apre questa schermata dove da tablet appunto sarà possibile fare la firma con una penna appunto per tablet oppure anche con il semplice dito si fa appunto uno scarabocchio si può andare a selezionare un referente diverso da quello che era stato scelto nel ticket andandolo a selezionare qui direttamente con la lente e qui mi si apriranno i vari contatti del cliente e poi è sufficiente premere su ok e in questo caso cosa succede? mi si apre quest'ultima schermata dove mi viene chiesto se il rapportino lo devo inviare oppure no se premo qui su continua e inviare in automatico verrà inviato un rapportino a questo indirizzo mail io qui chiudo senza inviare il rapportino posso comunque da qui decidere di mandarlo a più persone bene l'attività quella l'ho chiusa però vedete che qui me la ritrovo ancora perché questo ci rientro perché adesso vedete qui sotto trovo questa attività qui sotto che era quella precedente che ho appena chiuso dove infatti non ho ad esempio vedete qui start del tempo quindi vuol dire che è chiusa questa attività qui ma ho questa nuova che mi ha aperto Radix in automatico dove viene riportata appunto quella nota che avevo scritto in fase di chiusura pezzi di ricambio quindi appunto il giorno dopo torno dal cliente entro in questa attività faccio quello che devo fare e poi la chiudo faccio velocemente qui anche senza mettere i tempi per farvi vedere che poi il ticket sparisce direttamente dalla vista eccolo qui adesso ho chiuso anche questa attività torno nella schermata principale e il ticket non c'è più bene un'altra cosa molto interessante che posso fare qui ad esempio entro adesso in questo ticket vedete che qui ho password management entro qui all'interno se io premo su password management ho la possibilità di avere l'elenco delle password di questo cliente o meglio visto che in questo caso ho utilizzato anche un numero di serie quindi una matricola in questo caso era un server qui con la gestione appunto del password management ho la possibilità di salvarmi in modo criptato ovviamente tutte le credenziali di accesso in modo tale che chi fa l'intervento è autonomo anche in questo caso per ricercarsi le credenziali poi per avere la password è sufficiente cliccarci sopra qui volendo se sia su un pc è possibile copiare la password oppure è possibile vederla e inserirla poi sul dispositivo Fabio posso intervenire? Dimmi pure allora ci stanno chiedendo se questo strumento funziona solo online questo che stiamo vedendo sì l'altro che vi farò vedere a brevissimo che è l'app che funziona come dicevo all'inizio su tablet iOS e basta quindi non Android quella ha la possibilità di lavorare anche offline non tutte le funzioni non al 100% ma una buona parte è possibile lavorare offline quando quindi non c'è rete non c'è campo è possibile comunque registrare i tempi le descrizioni e quant'altro e poi nel momento in cui torna il segnale allora il sistema si sincronizza e i dati vengono aggiornati altro? al momento no grazie ok bene torno qui quindi dicevo da qui ho la possibilità di andare direttamente nel password management però in questo caso aprendo il password management dall'esterno in sostanza qui posso andare a filtrare anche per cliente quindi non mi si apre direttamente come abbiamo visto prima su una matricola in particolare ma devo poi decidere io per quale cliente filtrare poi da qui cosa posso fare qui in alto a sinistra ho cambia lista ci clicco vedete ho tre possibilità ticket che è la schermata che abbiamo appena visto attività storiche ci clicco sopra e qui trovo tutto l'elenco delle attività che ho fatto io con una profondità storica che è configurabile a piacimento anche in questo caso ho l'elenco appunto delle attività dove trovo anche quella che ho appena fatto che ho appena chiuso ci clicco sopra e qui vedete che avevo messo descrizione tecnica pezzi di ricambio era la seconda che avevo riaperto in questo caso posso vedere anche i tempi che erano stati inseriti in questo caso non avevo inserito neanche uno perché li avevo inseriti nella prima attività e in ultima battuta posso anche riattivare supponiamo che abbia chiuso questa attività per errore la posso riattivare quindi mi ritorno in lavorazione altra lista che posso vedere è quella da pianificare dall'ufficio viene inserita una richiesta di assistenza per un cliente ma non viene assegnata a nessun tecnico perché sono tutti fuori io ho la possibilità se finisco ad esempio in anticipo un intervento di entrare qui in quelle da pianificare e vedo tutte quelle che devono essere ancora pianificate o non assegnate quindi posso decidere io in autonomia di prendermi in carico un'attività e di andarla a fare quindi sono ad esempio nelle vicinanze di questo cliente ci clicco io sono questa persona faccio assegnare l'attività sparisce da questa lista e se adesso vado sull'attività sulla lista dei ticket la ritrovo qui eccola qui era pianificata il 15 del 7 bene Fabio avrei una domanda ancora se puoi rispondere allora ci sono anche campi di applicazioni per verifiche periodiche e o interventi sui misuratori fiscali con relativo scadenziario sì allora abbiamo una gestione proprio dedicata agli ECR quindi ai misuratori fiscali gestiamo proprio tutta la parte di manutenzione con la possibilità anche di poi estrapolare direttamente da Radix il tracciato che serve poi da spedire all'agenzia delle entrate quando appunto si fanno le manutenzioni sui misuratori fiscali quindi sì la risposta è sì riusciamo a farlo tranquillamente grazie c'è la possibilità di tracciare il tempo di viaggio quindi io tecnico parto dall'ufficio o da casa premo qui su start tempo di viaggio e parte il contatore mi dice inizio alle 15.41 e il tempo comincia a scorrere arrivo dal cliente entro nella mia attività che devo fare e da qui posso andare direttamente a fare lo start del tempo questo è il secondo modo che ho di inserire i tempi dell'attività senza inserirli a consuntivo come vi ho fatto vedere prima ora magari a qualcuno potrebbe venire il dubbio di dire ok e se un tecnico non fa lo start del tempo quindi non blocca il tempo di viaggio non c'è nessun problema perché ci sono dei job su Radix che vanno a sistemare proprio la sovrapposizione dei tempi di viaggio quindi se un tecnico si dimentica di fare lo stop del tempo di viaggio e non inserisci ad esempio correttamente anche i tempi delle attività ma lo fa ad esempio il giorno successivo anche qui ripeto non è un problema perché Radix poi riesce a sistemare tutte le tempistiche bene questa è una panoramica che vi ho fatto sulla parte del mobile ticketing è possibile creare un promemoria che si visualizzi al primo ticket che apre il cliente per esempio c'è da ritirare un toner difettoso dal cliente ma non è un'attività urgente ma ad eseguire la prima occasione che si visita il cliente sì è possibile nel senso che all'interno di Radix io posso mettere un avviso sul ticket e questo viene in automatico fatto vedere al tecnico quando apre quelle attività perfetto grazie c'è un'altra domanda che è appunto che cosa sono i job sì chiedo scusa i job sono praticamente dei nostri aiutanti sono quelli che fanno il lavoro sporco in sostanza quindi procedure automatizzate che possono lavorare di giorno di notte non hanno non si possono prendere ferie malattie e quant'altro e fanno il lavoro sporco quindi tutte queste attività che si possono automatizzare appunto tramite job grazie ci chiedono come posso scaricare i pezzi di ricambio direttamente dal tablet perché solitamente sono codici abbastanza lunghi e il tecnico insomma sì allora c'è la possibilità torno qui dentro un attimo ma la stessa cosa che si può fare anche dall'app quando sono all'interno di dell'attività dicevo qui c'è il pezzo di ricambio qui dicevo c'è ho la possibilità di avere l'elenco dei pezzi di ricambio oppure il totale deposito ma qui adesso non viene fuori perché sono su pc ma se fossi su un tablet qui c'è la possibilità di attivare la videocamera e di fare una foto sul barcode che solitamente viene apposto sui pezzi di ricambio quindi di conseguenza il tecnico semplicemente deve andare sul suo furgone attivare la videocamera inquadrare il barcode e in automatico gli viene filtrato il pezzo di ricambio perfetto grazie non so Fabio se devi far vedere ancora altre cose relativamente al mobile ticketing no ho terminato ok allora io ti ringrazio sei stato molto esaustivo voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato che si sono interessati appunto a questa soluzione noi siamo naturalmente a vostra completa disposizione io sono Roberto De Giorgio potete fare riferimento a me a conclusione diciamo di questo appuntamento vorrei ricordarvi che giovedì 22 sempre alle ore 15 avremo il quarto incontro e saranno con noi i signori di conica minolta che appunto avranno il loro spazio di un'oretta circa per raccontarci di quelle che sono le novità nel mondo dell'office automation io vi ringrazio e vi saluto tutti grazie mille dell'attenzione buona serata buon pomeriggio anche da parte mia grazie mille grazie mille grazie mille